Fedez starebbe male, molto male, a renderlo noto è Fabrizio Corona che con un post su Instagram ha divulgato l'indiscrezione secondo cui la mancata presenza del rapper al programma di Alessandro Cattelan sarebbe dovuta a un suo grave malore con conseguente ricovero. Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d'urgenza in pronto soccorso. Questa è l'unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2. Ne dà la conferma al 100% Corona lanciando l'indiscrezione e facendo preoccupare i fan del cantante. Al momento la notizia non è stata né confermata né smentita da Fedez o la sua famiglia. Intanto tra i molti fan di Federico Lucia sale la preoccupazione e la paura che ci possa essere stata una nuova emorragia.